Sono di Castelnuovo-Rangone, Modena. Ho un food truck, la vetusta gastronomia su ruote. La mia idea di cucina nasce dalla tradizione emiliana e io cerco di trasportarla per la strada. Sul mio furgone propongo dai tortellini in brodo ai primi il mio piatto forte e l'hamburger di Cotechino. Ha avuto un successo molto importante, inaspettato. Prima di iniziare l'avventura della vetusta ero nell'ufficio comunicazione di un'azienda che fa aceto balsamico di Modena. Il mio vecchio lavoro assolutamente mi piaceva, però poi sentivo il richiamo della cucina. A un certo punto, anche spinto da mia moglie, abbiamo deciso di prendere un'altra strada e la vita è cambiata notevolmente. Vincerò perché sono abituato a cucinare in tutte le condizioni.